Ci hanno obbligato a commettere un'infrazione del codice stradale perché ci hanno fatto fare la discesa, la salita o meglio dal Prato Santa Caterina in contromano per poter arrivare in Piazza Castello. Costretti a violare il codice della strada per rientrare a casa in Piazza Castello, a raccontare la sua disavventura è Pamela Bertoncello, una dei residenti. Causa Notte Bianca ha scoperto che il percorso che compie solitamente per rientrare a casa, l'unico possibile rispettando il codice della strada, non era percorribile. A quel punto, come molti altri residenti, ha chiesto aiuto e le è stato suggerito di fare il percorso al contrario. I vigili non hanno colpa, spiega Bertoncello, ma noi di questa piazza ci sentiamo vessati dalle scelte del palazzo. Non basta l'opera che chiude parte del parcheggio per l'estate, non bastano le notti bianche, ci si mettono pure le cene. La famosa cena My Secret Dinner in realtà è stata pubblicizzata fin da ieri, quando ci siamo trovati improvvisamente alla piazza tappezzata di cartelli, dove dicevano appunto che sabato sera ci sarebbe stata in Piazza Castello questa famosa manifestazione, questo famoso evento. Una iniziativa che costringe tutti a cercare posteggi alternativi. Siamo stati invitati ad abbandonare Piazza Castello senza un'altra alternativa e quindi non sappiamo fondamentalmente dove finiremo. Benvengano, rilancia Bertoncello, le iniziative per rilanciare la città, ma il commercio davvero può ripartire con manifestazioni come questa? Noi vorremmo capire effettivamente qual è il ritorno di queste notti bianche, se effettivamente i nostri commercianti lavorano, dato che ultimamente con la chiusura dei negozi, con la liberazione dei parcheggi, vogliono come dire liberare anche la città dalle persone.